Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono quello che fai video Volevo spiegarvi che è da un botto di tempo che mi consigliate, in realtà consigliate, me lo state dicendo minacciandomi di morte Di portare Tarkov, che in realtà io avevo scaricato già da tipo tre anni Solo che è esploso solo ultimamente, chi più del buon Thomas può accompagnarmi in questa incredibile avventura su Tarkov 3, 2, 1, questa è la partenza, questa è la prima partita che facciamo ragazzi Questa è quella vera Fammi entrare nel cestino che non c'è Thomas ragazzi, non c'è Thomas, senza Thomas muoio User Martino Garizzo, decline your invitation, cosa? Ma come? Come si esce di qua? Fammi uscire! Se premi una sola volta O, ti dice da che pare, come si chiamano i posti da cui uscire Aspetta che tanto muoio, faccio prima, aspetta Ma no, ma provalo, provalo a ucciderlo, provalo a ucciderlo Eh, ci sto provando, aspetta Erano in due L'ho ucciso uno Ottimo Incredibile Proprio lui L'altro si è incazzato, lo sento urlare Nooo, no, no, no Come si carica l'arma? Mi si è inceppata l'arma, Cristo Aspetta Come si carica? Carica, carica le armi Le armi, carica, madonna Un gioco di FPS, carica Carica un'arma, come si carica le armi? Madonna, pure un gioco dove devi andare lì a dirvi ricaricare l'arma Come si ricarica? Ricarica l'arma, ma Dio Minchia, devono fare cose, madonna, impossibile Oh, la ricaricata Cioè, schiaccio, ho dovuto programmare io il gioco Madonna, ho capito che è un gioco reale Ma Cristo, un'arma devi ricaricare Non è che devo fare Devo costruire Ma dai, ma dai Quello mi ha sputato in un occhio e sono morto Cioè, io Ma dai Ma io posso morire Io in un gioco voglio morire perché sono scarso Non perché non riesco a ricaricare un'arma Perché non riesco a prenderla da terra R, ricarica, madonna R, ricarichi No, no R, no, non ricarica Vabbè, allora fai tu Ma non ho capito Avevo fatto una provata Uno lo ucciso Erano in due Uno l'ho ucciso L'altro c'avevo davanti Tattà, mi si è impicciata l'arma Ho detto no Dai, minchia Allora, credio Mi guardano dal cielo Mi puntano Mi dicono no Non lo facciamo uccidere due persone Che già una è tanto Allora facciamo così Facciamo l'inceppare l'arma Mi si è inceppata l'arma Ho dovuto riprogrammare il gioco Con le if Quello che ho studiato L'informatica Per ricaricare l'arma Mentre me la sono ciapata Interkill Bene Per una volta che facciamo Non aveva fatte bene Viglio lo scavo Andiamo insieme Ciao Com'è? Mi butti Madonna quanto sei brutto Mi butti qualcosa per terra Per favore Che voglio provare a lutarla Madonna ma sei Quello di Sei jazz O non di venerdì 13 Ok Ha buttato questo Con la F Lutti Ah Allora La F E ce l'abbiamo Adesso manca il tasto di ricarica Ok, ottimo Il tasto per camminare Io non ho capito Ma Qua io sto caricando il mio fucile Sto continuando a caricarlo Perché? Sì No, non farlo Aspetta, aspetta, aspetta Ogni volta che tu ricarichi Vabbè la tua arma Ti faccio vedere Vieni, vieni qua Ti faccio capire il realismo del gioco Adesso io ho il caricatore Con i colpi pieni No? Sì Se io ricarico Guarda Il mio amico No, ok Per fortuna ho l'inventario pieno Ok Niente Voglio farti vedere che a volte butta per terra il caricatore Perché a volte non c'è il spazio Però lo cambia con uno degli altri che già ci sono Ok C'è un tipo 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 La porta laggiù C'è un tipo Gli sparo Sono io Sono io Sono io Sono io L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso Era un player Mannaggia L'ho ucciso Mannaggia Mery tu fuori dal casermone Allora Sei tu quello che ho facciato lì davanti alla porta Sì, sono io Sono io Sto per morire Mannaggia Sono qua Sono qua Stavo sparando a te Allora Questo qua è pieno di roba Lore Porca vacca E prendigliela Prendigliela È della roba È della roba assurda questo Però devo curarmi Se no muoio Se io muoio Lore Devi portare te in salvo La situazione Sì, sì Sto perdendo vita Ogni istante Porca di quella Ah, quindi io prima Mi sa che sono morto Non perché mi hanno sparato Ma perché sono morto Di sanguato È possibile Mi sto curando Porca vacca Oh Perca di sangue Mi serve Ah, io sto guardando Il suo zaino Ti do che ti muovi? Mi comincia Tu che ti muovi? Qua sono qua Sono qua Ti do io il supporto Vuoi delle vende? Non ce le ho Quindi abrangenti Il bello è che non è troppo immediato Nei movimenti Quindi è anche difficile coprire Perché se vedo uno Non è che mi sparo In tre secondi Ci mette un po' di tempo A mirare A fare le robe Oh, chi è che ha sparato? Chi sta sparando? Eh, sì Della gente Allora Gli hai preso l'arma Da quello fuori? Sì Ce l'ho Ce l'ho in mano Ecco, c'è un tipo qua C'è un tipo qua C'è un tipo qua L'ho ucciso C'è un tipo è morto Che giocatore? Che giocatore è? Lo fa fuori Proprio lui Ok, ok C'è un tipo lì Morto è morto è morto L'ore, devo spiegarti il gioco C'è troppo lutto Cosa devo fare qua? C'è un teggigente C'è troppa roba Cosa facciamo? Usciamo Usciamo Che cosa facciamo? Che ne so Io sparato Aia, qualcuno ha sparato Chi è che ha sparato? Non io Lo senti? Hai sentito? Sì Sai cosa dobbiamo fare? Lutta tutto quello che puoi E ce ne andiamo Ci leviamo dalle scafole Ma qua c'è gente Questo qua è arrivato in cielo Messo un secondo ad arrivare Secondo me Sparano questi Secondo me Arrivano tutti Ci ammazzano qua Come si fa a lutare la gente? Perché io non vedo Madonna Mi sto cagando nelle mutande È che Stiamo vicini per cortesia C'ho paura Qualcuno mi ha colpito Non lo so Aspetta Se non sbaglio non puoi Farci nulla Eh ma più che altro Ne arriva a zero l'acqua Che succede dopo? Perdi fluidi Inizia a perdere vita Meno male che c'è Meno male che c'è Lo sterni dietro Che ci dà Quindi non posso curarmi Morirò Che tempo No ti hanno sparato Chi è che ti ha sparato? C'è uno scaf cecchino lì Ah c'è uno scaf cecchino Chi è che sta sparando? No Ma chi è che ti ha sparato? Eh c'è un cecchino Dei metterti da dove siamo arrivati Da dove siamo arrivati è? Sì Mi ha sparato anche lui L'ha fatto fuori Chissà dove era Eh non so dove era Ti è andato Ah è là Oh Morto morto Lo ucciso Dal cancello Lo vedi? No Questo è un altro sparo però Allora Prova a andare a luttare Dal cancello In mezzo alla ferro Non so dove siete Ah ok Ok vedo è morto Io sono qua Io sono Io non posso correre a questo gioco Perché come corno Perché? Corro ma L'energia si stanca immediatamente il tizio Mi raccomando ogni volta che lo ti premi x rimani totalmente sdraiato sopra l'altro cadavere Sì sì Ok quindi la prima cosa che fai è trascini Ok vai vai Trascina anche ovviamente il suo backpack e la sua best ce l'ha dentro la tua Devo prima esaminare tutto eh E poi esatto esatto e poi dopo esamini Yes Vabbè le parole è che tu abbia un'arma Oh 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 Questo ha un'armona eh Di apriamo Andare a vici Ci avviciniamo? Non so da dove arrivano Madonna che cecchino ha Bellissimo Voglio spaccare C'è uno qua guarda Uno dopo il cancello Sono me What? Subito qua No non l'ho visto Non qua però Non voglio facciarmi No 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 Non ci ha visto Vieni Ecco guarda Vieni con me Ho superato il punto No Sono dall'altra parte del cancello anch'io No non l'ho superato io Adesso arrivo Ma Sono dall'altra parte del cancello E' qua a sinistra era Attenzione E' qua dentro l'erba Ok 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 Sono vicino a te Non qui però è andato tipo qua dietro Occhio non so da dove Però è andato qua Ma era un player dici? Sì era un player Occhio senti senti Sì sì Stai accucciato Stai accucciato E sono accucciato Oh davanti a noi a sinistra L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho neanche visto L'ho ucciso è qua Meno male che non ho sparato Perché eri tu Quello che stavo mirando Attenzione Non aveva nulla Era un player Non aveva nulla Vediamo Basta Non c'era proprio nulla Zero Uno nudo in pratica Uno qua Morto Uno è morto Ho visto uno morire Davanti ai miei occhi È stata una cosa orribile Occhio occhio Stai giù C'è qualcuno messo bene Sto guardando la gas station Occhio Se vieni un po' più avanti Ci incontriamo Vieni un attimo Mi sta arrivando in mezzo Al cespuglio Sì sono delle spalle Sì sono io qua Allora Qua a sinistra c'è uno Che è morto È morto lì in mezzo E qualcuno li ha sparato Allora la gas station Sì l'ho visto Anche darsi che sia il cecchino Sempre lo stesso che ci ha fatto Perché siamo molto vicini Alla zona dove eravamo Ma dov'è sto cecchino Eh Da questa parte non lo so Non li ho studiati I cecchini del gioco Allora Vuoi provare ad andare a luttare Quello là Che è morto No Sei pazzo È un bait Non mi hai mai visto i film di James Bond E mi hai giocato a Metal Gear 1 Il bait del Uh c'è qua 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 L'ho sparato Gli ho colpito la gamba È qua dietro il boiler Gli ho sparato Gli ho colpito la gamba Attenzione È qua è qua è qua eh È ha fatto Ritirata È un player Quello lì eh Quello qui è sparato Eh lo so Immagino Ha fatto dietro front subito Perché non ha detto Ah perché si dice così Eh se Mi dice cosa è un cecchino pesante Bro Che facciamo Che facciamo Non so L'ho colpito Nelle palle Quindi qualcosa Li avrò fatto Non so Io Leroy Jenkins Eh Leroy Jenkins Vai Vai verso il tizio Subito Però io un cecchino Non posso lasciare Cioè se rascio Non è inutile Bro è la sinistra Qua è qua Che ha cominciato Per terra Eh infatti volevo prendere Che ha fatto L'ho Sì mi ha fatto Mamma mia Buon shot dato No Peccato Volevo ucciderlo Strano che però Ti è ucciso anche a te Sì Ho provato a Sporgermi a spararli Però il mio colpo Non gli è arrivato O gli è arrivato Ma non l'ho ucciso Non lo so Slap Lorenzo Veramente si chiamava Ma veramente Slap like for Slap Lorenzo OMG Ragassuoli Spero che il video Vi sia piaciuto Il prossimo episodio Faremo sicuramente più Però bello Mamma mia Devi solo imparare un po' Tutto Il che è il 99% Di cose che ancora non sappiamo Però veramente figo Fatemi sapere se volete In altri episodi Iscriviti al canale Schiacciate la campanellina E noi ci rivediamo Al prossimo video Beh ragazzi